Se si desidera esportare i report in i Passant Manager, iniziare facendo clic sul pulsante di monitoraggio. Poi cliccate sull'opzione Report in alto. A questo punto, cliccate su Esporta accanto al report che volete scaricare, e filtrate in base alla data che volete visualizzare. Infine, cliccare ancora una volta su Esporta e salvare il file al termine del download.